Bentornati a tutti. Oggi è venerdì, 12 luglio 2024. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Toro. Splendita giornata, ma la notte no. Il de quo punto. Ma la notte no, canta Enzo Arbore e un'occhiata gli darà ragione. A vostro favore lavorano la pazienza di Saturno e lo zelo della Luna, rispettivamente in sé stile e intrigono al vostro segno, aspetti rasserenanti che contribuiscono a calmare un po' i vostri bollori, fomentati da Marte e Urano, quanto mai infiammabili ed esplosivi. Come si insegna presso il corpo militare del reggimento genio, gli esplosivi vanno maneggiati con cautela, quasi fossero fragili cristalli. Sfiorateli col tocco gentile di Venere Cancerina e non ne avrete alcun danno, un esempio da traslare alla sfera relazionale, valido sia sul fronte delle amicizie che della parentela, fino alla cerchia ristretta della famiglia. Passaggio serale della dea dell'amore in leone, gentile anche in quadratura, col suo calore addolcirà il rapporto col partner e i figli, un tantino allentato dai vostri impegni lavorativi e rinsalderà il legame riunendo persone di diverse età e stile di vita tutte attorno alla tavola, a festeggiare il successo di qualcuno, il buon esito di un esame. In alto le coppe, raccomandato un buon rosè. Un amore potrebbe finire da un momento all'altro, una coppia sfaldarsi, un fidanzamento interrompersi, un matrimonio potrebbe essere cancellato. E la fine di qualcosa, la fine di un amore, la fine di una gioia. I single potrebbero vedersi annullare le speranze che avevano riposto in nuove amicizie e nuovi incontri o nella nascita di un amore. Ricordate che l'amicizia è un dono e come tale va vissuto e affrontata, se scoprite che un amico o un'amica vi ha tenuto nascosto qualcosa, anche di importante, prima di decidere di allontanarvi fate almeno un tentativo di chiarimento. Bene ogni faccenda in casa, oggi vi sembrerà una di quelle giornate luminose che invitano a stare a casa e a godersi qualche ora di relax. E un po' che vi sentite scontrosi e poco aperti agli altri, state dando molta importanza a cose futili e irrisorie. Servirà un cambiamento di rotta se vorrete sopravvivere a questi giorni apatici. Qualcuno che in passato non ti considerara busserà alla tua porta. Forti emozioni. Alcuni cambiamenti da fare. Meglio evitare i viaggi. Fate con attenzione e diligenza il vostro lavoro e procurate di essere cordiali con i vostri colleghi, qualunque cosa dovrete fare, fatelo senza lamentarvi e soprattutto fatelo bene. Disappunto e sconcerto vi prenderanno la mano. Cercate di restare nel vostro abituale equilibrio perché vicino a voi c'è qualcuno pronto ad approfittare del vostro stato d'animo e mettervi in difficoltà. È un periodo di idee brillanti e di novità inaspettate, tutto ciò che è insolito ti attirerà. In amore ogni cosa andrà al suo posto ma solo se vorrete realmente risolvere i problemi rimasti in sospeso senza mettere più la testa sotto la sabbia. I single potranno beneficiare di una giornata davvero frizzante, anche per i nuovi incontri e l'approfondimento di nuove amicizie sembra che la giornata sia adatta. Meno per le coppie costituite di recente dove potrebbe essere necessario chiarire alcuni problemi. Un vivace urano nel vostro segno illumina di buone prospettive ogni vostra mossa compirete in questa giornata. Inoltre il pianeta dello zodiaco continua a regalarvi una vita sociale dinamica e spumeggiante, specie se festeggiate il vostro compleanno nella terza decade. Oltre al passaggio di urano, anche il sole, Saturno e Nettuno sono dalla vostra parte. Solo venere da oggi è fino al 5 agosto, però vi è contraria, dal segno del leone. Potrebbe essere un'ottima giornata questa per voi coccolati dalla luna di terra nel segno della Vergine intrigono al vostro e ai vostri urticanti inquilini Marte e Urano che ne ricevono una calmata e non sarà questa combina la sola pacificante. Per la tranquillità e il rallentamento degli impegni lavorano anche i sestili di Saturno, di Nettuno, del sole e di Venere, tutti quanti amici vostri. Il colpo di scena arriva in serata, appunto quando la dea dell'amore vi fa lo sgambetto marcando i confini del leone dove va a raggiungere Mercurio già imbronciato in quadratura. Amore ed Eros. Nulla da ridire sull'amicizia selettiva ma stabile e sui rapporti di parentela, affettuosissimi e molto tenaci. Sarà la famiglia, soprattutto in serata, al centro della scena. Si chiacchiera senza animosità scambiandosi opinioni anche piuttosto divergenti. Il magoncino arriva ripensando al passato, a una persona che magari siete stati voi a lasciare per un assurdo colpo di testa e ora piangete rievocando i momenti felici e rivedendo la belle foto scattate insieme. Animo, anziché lacrimare provate a lanciare un messaggio, sarà ascoltato e soprattutto gradito. Un filo preoccupati per i figli in vacanza da soli invece non dovreste, giudiziosi loro, prudenti anche loro amici, lasciateli vivere questa bella esperienza senza tener loro il fiato sul collo. Lavoro e denaro Grinta e determinazione le armi vincenti, sia negli studi per chi è ancora in ballo con gli esami, sia sul fronte dei commerci e delle trattative dove saprete dosare al meglio tenacia, sensibilità, disponibilità all'ascolto e volontà. Meno loquaci dell'interlocutore ma più concreti e operativi, sarete voi ad avere la meglio, anche se a prezzo di un piccolo ritocco sugli accordi e i costi convenuti in precedenza. In progetto migliorie per la casa e qualche cambio di arredamento, ora che in tasca vi ballano dei bi e i soldini li investite nel benessere futuro, nell'appartamento che con le dovute modifiche acquisterà in dubbio valore. Benessere Nervosetti, basta un non nulla, una parola fuori posto a mandarvi fuori dai gangari. Per vostra fortuna siete circondati da persone serene e intelligenti che vi vogliono bene e sanno come trattarvi, oggi infatti ci vogliono le molle. In città soffrite il caldo, causa di emicranie e sbalzi pressori. Tono decisamente migliore in vacanza, specie tra campagna e acqua ritrovate pace e serenità, vocaboli quanto mai desiderabili non solo sul fronte individuale, ma per tutta l'umanità. Per lei, ambiziose, quando si tratta della casa non badate al soldo e ora che avete messo da parte un gruzzoletto lo dilapidate allegramente, arredando a nuovo il salotto, la cucina, la camera dal letto e perché no, anche la stanzetta del pupo che verrà. Se non succedesse potete sempre convertirla in studio. Per lui, continuare a parlare di una storia ormai scivolata nel passato, non fa che immobilizzarvi, mummificando anche il cuore. Triste sentirsi un fiume sbarrato da un muraglione di una diga, l'acqua deve correre sempre avanti verso il mare, incontro a qualche bella ondina che vi farà di nuovo battere il cuore. Colore delle emozioni, viola. Barometro dell'umore, sereno. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6, attività, 8, finanze, 9, benessere, 6. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.